Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati, buongiorno e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 29 giugno e questa è la rassegna stampa che apre ufficialmente la giornata informativa di Fano TV. Con la lettura dei giornali che tra poco faremo con il nostro testo. Adesso invece andiamo a vedere il santo del giorno. Allora andiamo a vedere adesso il tempo con l'immagine come sempre delle 7.30, la nostra telecamera, quella dell'osservatorio meteorologico che è accessibile tramite il nostro sito internet occhianonotizia.it con l'immagine che ci mostra un cielo sereno, un'aria terza pulita e una temperatura che già è a 18 gradi. In attesa del grande caldo che arriverà nei prossimi giorni intorno a mercoledì. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, poi domani lo stesso cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionari oppure in ulteriore lieve aumento. Allora cominciamo dall'arresto del calino con la notizia di questo giallo che è stato risolto. Un ragazzo che a un certo punto è stato visto martedì scorso vicino alla palla di pomodoro appesa, era un ragazzo che era completamente arrossato dal sole, era un po' così smarrito, si vedeva che insomma non stava un gran che bene. E così è stato segnalato, lo hanno avvicinato e si è scoperto che questo ragazzo non ricordava nulla di sé, quindi aveva perso la memoria. E allora di lì, insomma dopo quattro giorni si è riusciti a capire chi era questo ragazzo, chi è soprattutto, cosa fa, da dove viene. E adesso il padre sta arrivando, probabilmente già arrivato questa mattina dalla Germania per riportarlo a casa. Il resto del calino racconta, così come gli altri giornali, un po' la vicenda di questo giovane Fabian, così si chiama, che è tedesco e fa l'assicuratore. Il padre sta venendo a prenderlo, i carabinieri sono infatti riusciti a scoprire l'identità dello smemorato. Christopher invece era il vecchio nome, l'unico che ricordava quello che ha sempre detto a chi gli chiedeva, ma come ti chiami? Lui diceva Christopher, in realtà lui si chiama Fabian, però ha pianto quando ha sentito al telefono la voce del padre. Poi a un certo punto, insomma, nelle sue risposte, tutte in inglese, perché il tedesco a quanto pare non se lo ricorda più per il momento, quindi in inglese, perché la mamma è inglese, in inglese a volte dava anche delle risposte autoironiche, tipo la fidanzata, boh, non so se ce l'ho, ma comunque se ce l'ho sarà in ansia perché da giorni che non mi vede. E qui c'è tutta la storia, come dicevo, sul giornale, sui giornali di questa mattina. Poi, festa del porto di Pesaro, si comincia, sette giorni di eventi, questa sera alle 21 c'è anche la processione, e poi vedete qua questi fulmini, questi fulmini che nessuno aveva previsto in realtà, perché sabato sera, tra sabato e domenica, all'improvviso il cielo è iniziato ad illuminarsi e si è scatenata una tempesta di fulmini, qualche goccia d'acqua, insomma, una tempesta che si è abbattuta sulla città di Pesaro e non solo di Pesaro, però il Carlino ha raccolto alcune immagini tra le più belle. Poi invece ieri è stata una giornata di sole, una giornata piena di gente in spiaggia, e quindi di conseguenza l'assalto al litorale ha fatto sì che in molti hanno parcheggiato un po' dove capitava. E quindi che cosa è successo? Guardate questa fotografia. Qualcuno deve aver detto, ma, insomma, così, senza pensarci troppo su, che qui, in questo prato, si poteva parcheggiare e così, insomma, non ci hanno pensato due volte, si sono tutti messi a parcheggiare qui nel prato. Poi però qualcuno, insomma, si è accorto e ha chiamato, cioè ha storto il naso, non ha digerito la cosa, ha chiamato i vigili e quindi strage di multe, però si teme una strage di multe, questo è il titolo della pagina 5 del Corriere del resto del carriere di questa mattina. Qualcuno ha detto che si poteva parcheggiare nel prato, ma la sera arrivano i vigili. Il comandante Galdenzi, nessuno dei miei ha aperto la sbarra, vorrei sapere chi è stato. Sanzioni? Vedremo. Poi sotto, invece, qualcuno si domanderà a che cosa servono questi scheletri dell'ex zuccherificio, così belli, così, no? Belli da vedere all'ingresso della città, alla porta sud della città. A che cosa servono? Ebbè qualcuno ci ha pensato, ci ha pensato perché servono per mettere, per nascondere la refurtiva, per nascondere le cose rubate. Lo hanno scoperto i carabinieri di Fano, per esempio, che dentro alcuni sacchi neri, sistemati all'interno di questi scheletri dell'ex zuccherificio, hanno trovato delle biciclette smontate, però, quindi, quelle che in parte sono già partite per la Romania, perché qualcuno ha detto di aver segnalato ai carabinieri una macchina con targa romena, una monovolume rossa, ancora più precisa, dove tre persone caricavano questi tre sacchi neri, poi qualche sacco è stato ritrovato, appunto, ancora lì, quindi non c'era spazio per caricarli tutti, evidentemente. E, insomma, c'erano dentro queste biciclette smontate, sapete che a Fano ci sono tante biciclette rubate, ogni tanto ci sono questi negozi che vengono presi di mira e che vengono, appunto, svuotati di costosissime, tra l'altro biciclette da corsa. Oggi l'addio, invece, al piccolo Andrea, non è Andrea, evidentemente il titolista si è confuso con i Santi, Pietro e Andrea, e quindi gli è venuto fuori il titolo Andrea, ma, insomma, in realtà il bambino, questo bellissimo bambino che vedete su questa fotografia si chiama Edoardo, ed è il bambino che purtroppo è morto a otto anni e mezzo, è morto l'altro giorno, venerdì sera, volando dallo scutte del papà sotto le ruote di un mezzo agricolo nella strada della Selva Centinarola. Dicevamo, i funerali ci saranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa dei Santissimi, Pietro e Andrea a Fenile di Fano. Ancora la cronaca dal resto del carlino. A Urbania, uno schianto tra la minicar e una Peugeot, grave un 74enne, Osvaldo Pueri, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla strada Fangacci, in località Gulla, nel territorio di Acqualagna. Sotto, notizia da Fano, con il Festival della Comicità e sotto le stelle al via gli appuntamenti all'arena di Fano. Per Vallefoglia è già tempo di bilanci, siamo sempre sul resto del carlino, Pesaro e Provincia, il sindaco Ucchielli questa sera illustrerà a Piazza dei Quartieri cose fatte e quelle da fare. A Montelabate invece a Farneto una trentina di famiglie sono senza acqua, da venerdì è stata dichiarata infatti non potabile, mentre al Beato Sante nel bosco spunta un ordigno bellico che è stato trovato da un passante, più esattamente un proiettile d'artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale, nel bosco del Beato Sante. I carabinieri hanno perimetrato tutta la zona ed attivato gli artificieri che lo faranno esplodere. Insomma, di questi proiettili è davvero pieno il nostro territorio nell'entroterra. Oggi una serata per ricordare Teo DJ, tragicamente scomparso, stasera alle 20 ai bagni numero 5 tra Pesaro e Fano. Si chiamerà Tributo a Teo DJ, che in tanti hanno conosciuto. Sul Corriere Adriatico invece oggi la notizia della morte di Fabri, Franco Fabri, re del maratone. Era un grande appassionato infatti di maratone, ma in generale amava e sosteneva tutto lo sport. Molti lo ricordano nelle vesti di presidente della viridissima calcio, che per tante stagioni aveva condotto. Ma un altro tratto rendeva unica la figura di Franco, ovvero la sua verva di presentatore. Era un intrattenitore brillante e con il suo magico microfono e la sua simpatia, sapeva essere protagonista e conduttore di tutte le sagre paesane, stiamo ad Apecchio, che si svolgono nel circondario e non solo appunto al paese di Apecchio. In attesa dell'autopsia la data del funerale resta da stabilire, anche perché la moglie ha chiesto che venga fatta l'autopsia. Da Fano invece spiagge piene e raffiche di multe, sosta selvaggia a Lido e alla Sassonia. I giovani sono una risorsa per gli stabilimenti, però come vedremo tra un istante, lo facciamo subito, eccola qua, Senigallia, stessa cosa, la riviera fa il bis, pienone e multe. Quindi questo, come dicevamo all'inizio della nostra segna stampa, sarà un life motive che ci accompagnerà per tutta l'estate, perché ci sono le spiagge, c'è l'acqua, ci sono gli ombrelloni, tanti, ma mancano i parcheggi. O forse manca la cultura del muoversi magari con mezzi alternativi, o forse mancano i mezzi alternativi che i comuni dovrebbero organizzare per agevolare la vita di chi viene qua sulle spiagge. Insomma, come la mettiamo? La mettiamo, c'è il problema comunque del poter andare in automobile o comunque in spiaggia con mezzi alternativi. Torniamo sulla pagina di Pesaro, perché anche qui il racconto di una festa in spiaggia con una marea di giovani, superata la soglia addirittura dei 5.000 partecipanti, viabilità difficile, controlli serrati e malparti ha funzionato, una discoteca, vedete, a tutti gli effetti, una discoteca sulla sabbia, in riva al mare, un'incredibile istantanea della spiaggia sottomonte, suoni, vibrazioni, colori, migliaia di giovani, carichi di adrenalina lungo tutto il tratto dell'arenile. È un successo, al di sopra delle aspettative, il Maxi Party, targato da una discoteca di Riccione, il Cocoricò. Gli organizzatori non si sbilanciano, ma insomma esprimono viva soddisfazione per l'esito di questo raduno. Andiamo adesso sul messaggero, chiudiamo la rassegna stampa, anche perché le notizie ormai sono queste, insomma ve le abbiamo date, adesso si tratta di ripetervele, di ridarvele, cambiando leggermente i titoli. Vigili bagnanti, tensione alla baia, blitz della Polizia Municipale al campo di Marte per liberare il Prato invaso dalle auto. Niente multa, ma gli agenti hanno fotografato le targhe dei mezzi parcheggiati sull'erba. Schianto con la minicare grave un pensionato, lo scontro sulla strada che da Urbagna porta ad Acqualagna. Oggi affanno invece gli stati generali delle attività economiche. Sono stati convocati dalle 16.30 alle 20 nella sala San Michele a Fano in via Arco d'Augusto. Dunque l'auto autodanneggiata per colpa dei cordoli, sto pensando a far causa al comune, ne ho centrato uno per schivare un cane, ho rotto la gomma, il cerchione e la sospensione. E' successo a Villa Caprile, quindi a Pesaro e questo signore, si chiama Augusto, racconta appunto la sua storia. Stiamo parlando dei cordoli, aspetta, non so se riusciamo a farli vedere. Ecco, la fotografia è un po' sgranata, ma si capisce più o meno di cosa stiamo parlando. Chiudiamo con l'ultima pagina, ma anche qui vedete il messaggero sulla pagina di Pesaro Provincia, si occupa dello smemorato, ha un nome, il giovane ritrovato confuso e senza ricordi, non è inglese ma tedesco, si chiama Christopher, non si chiama Christopher ma Fabian, il mistero risolto grazie alla pazienza di un maresciallo e all'intuizione del bianco e blu delle auto della polizia locale. Perché a un certo punto gli hanno chiesto, ma scusa, ti ricordi di che colore sono le auto della polizia? E lui gli ha tirato fuori un bianco e blu e quindi più o meno si è arrivati alla Germania, insomma. Piano piano, c'è voluto un po' di tempo, ma eccola qua l'auto infatti della polizia. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, stasera alle 20.30 qui su Fano TV, come sempre c'è il telegiornale, occhio alla notizia, ma ricordo che c'è anche il nostro sito internet che come sempre è aggiornatissimo in tempo reale con le notizie sempre disponibili e a portata di mano, sia per quanto riguarda il desk, quindi il computer dell'ufficio, ma anche tablet, smartphone e quant'altro, dove è possibile seguire anche la televisione in diretta, c'è l'applicazione gratuita sul Google Play, per iPhone ci stiamo lavorando, insomma non stiamo con le mani in mano. È tutto, grazie, arrivederci.